questo è il fiume di oggi facciamo un po' di setacciate di prova vediamo cosa salta fuori il punto è molto bello anche gli argini quando sono così sono buone notizie terra non è male ci sono sempre questi sassoni grossi comunque vuol dire che qui stradipa ben volentieri anche il terreno intorno sì mi piace quell'argine lì è figissimo vediamo se riesco a zoomarlo eccolo là molto bello mi piace ok riprendo tra un po'